Un cambio di casacca che, per una volta, non significa un addio doloroso. Alla vigilia della partenza per il ritiro estivo di Roccaporena, il Bari Calcio sfila in passerella con le nuove maglie targate Nike. Tre divise, la tradizionale rossa in stile polo, una bianca con fascia trasversale rossa e la terza blu a richiamare la maglia di riserva dei tempi d'oro. Un accordo triennale con uno degli sponsor tecnici più prestigiosi del panorama sportivo che vuole investire a Bari e nel Bari. Così come la compagnia aerea Balkan Express che, oltre a campaggiare sulle maglie biancorose, si occuperà delle trasferte della squadra. Il nuovo sponsor che ci affiancherà quest'anno è una compagnia aerea Balkan Express che, oltre a darci, da un punto di vista di sostegno commerciale, ci sosterrà anche da un punto di vista di scambio merce con la possibilità di utilizzare per tutte le nostre trasferte, che utilizzeremo in aereo, non più i voli di linea ma voli adatti a noi, quindi voli charter che ci accompagnerà, che è Balkan Express. Corposo il capitolo mercato con la conferma di Gomelt acquistato a titolo definitivo dal Tottenham. Arriverà il difensore Doncor dall'Inter e anche su Contini la società sta facendo passi decisivi. Per quanto riguarda l'attacco, Paparesta annuncia sorprese per le prossime ore. Credo che ormai siamo in fase di definizione e spero di poterlo annunciare già domani o al limite in occasione del ritiro di Roccaporena. Sicuramente comunque stiamo cercando di dare un maggior valore tecnico alla squadra, soprattutto in fase offensiva, e quindi i nuovi arrivi cercheranno di soddisfare queste nostre esigenze. E poi c'è il capitolo campionato. Spostato al VL 5 settembre a causa dello scandalo scommesso che ha travolto il Catania, Paparesta conferma che la Serie B starebbe pensando a un rinnovamento complessivo della sua immagine. Vogliamo far sì che questo campionato sia sempre più bello, non a caso probabilmente non sarà più denominata Serie B, ma stiamo valutando delle formule diverse, campionato italiano, campionato a seconda poi dello sponsor che ci affiancherà, ma è un campionato che ha dimostrato che comunque è sempre aperto, la lotta è sempre aperta. Quest'anno abbiamo visto come due su tre delle promosse non erano assolutamente previste, e quindi questo dico che è sicuramente un'esperienza positiva lo scorso anno, e poi le esperienze negative invece bisogna fare tesoro e soprattutto allontanare in maniera molto dura e rigida chi si è macchiato di reati che hanno danneggiato l'immagine della Serie B, delle società di Serie B e un po' di tutto il calcio. Grazie a tutti.